Blooper numero due è una grande serata, è una grande notte gli appassionati di calcio si sono tutti radunati sono arrivati da qualsiasi paese del nord, del sud, del centro della Spagna e adesso siamo qui a raccontare queste emozioni incredibili accanto a me, come sempre, c'è Luca Varcheggiani Buonasera, buonasera a tutti partita straordinaria, grande atmosfera grande spettacolo, grande pubblico, grande clima grande grande coraggio personalità, entusiasmo ma anche grandi qualità tecniche in campo da parte di questi giocatori che hanno comunque fatto molto della storia del calcio e che sono arrivati adesso a vivere una notte per la quale si sogna di giocare fin da bambini, decisamente decisiva, decisiva, dovranno dimostrare adesso di essere all'altezza della situazione cioè cercare di fare quello che stanno fare tu che avresti fatto? Io tante volte non ce l'ho fatta ah, io non ce l'ho fatta mai invece, va bene era un, come è? Un blooper? ma che vuol dire blooper? poi te lo spiego grazie a tutti grazie a tutti